Ciao, buongiorno, avanti, avanti. Buongiorno, siamo i fioristi, abbiamo portato le piante. Bene, ma io ne avevo ordinate cinque. Adesso contiamo subito quante sono. Ecco, tenga, una, ecco. No, no, la passi pure al mio amico. Scusi, eh, grazie. Due, ecco, la passi pure al mio amico. Scusi, ancora, grazie. Ecco, tre, quattro e cinque, sono cinque piante esatte. Sono cinque. Sì. No, non sono cinque, sono due. Eh, rifreschiamoci le idee. Ricominciamo da capo, dunque. Una. No, va bene, andiamo di là. Andiamo di là. Accidenti, come pesano. E voi, sono cinque piante. Ecco qua, una qui e una qui. Ecco, una qui e una qui. E le altre tre, là. Sì, rifreschiamoci le idee. Le altre tre, là, quelle due, qui. Qui vanno bene queste qui? No, non vanno bene, sono troppo alte. Troppo alte, via. Va bene, troppo alte. No, 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 le foglie che no. Le foglie che no, mi rovinate la pianta, no. Sì, tranquilla, le foglie le mettiamo in un cassetto. Stanno bene queste qui. Stanno bene queste qui. Si chiamano piante senza foglie queste qui. Basta così, basta, va bene così. Va bene così. Sì, sì, va bene. Comunque sono ancora troppo alte. Queste qui troppo alte. Va bene, va bene. Allora, no, no, vai per tranquillo. Adesso lo passiamo tutto, eh. Lo passiamo di cinquecento millimetri, va bene? Cinquecento? Sì, sì, così avrebbe bene. Tutto di cinquecento millimetri. Con cinquecento millimetri. Ecco, vieni qua, vieni qua che stiamo bene così. No, il mio tavolino del settecento. Lo passiamo del cinquecento, sì. E' cario, è svenuta. È svenuta. E adesso cosa si fa? Ebbè, ripreschiamoci le idee. Vabbè, un momento, ripreschiamoci le idee. Ripreschiamoci, ma sul serio. Con che cosa? Con? Recoaro. Recoaro. Che contiene i principi attivi dei semi del guaranà brasiliano. Di seta e dà energia. Guaranà, riccoaro.